ciao 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 grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante e bentrovato o bentrovato sul mio canale feri ASMR oggi un video con il microfono binaurale 3 io ti consiglio come al solito le cuffie oppure auricolari in particolare perché potrai ascoltare il suono da orecchia a orecchia oggi andremo a valutare tramite un test la tua personale risposta alla ASMR quindi la tua sensibilità agli stimoli sonori o visivi tutto ciò che ti chiedo di fare se vuoi partecipare a questo test è di appuntare un punteggio da 0 a 5 per ogni trigger che ti proporrò ne ho preparati 10 per te tra i più classici quindi ti farò ascoltare il suono oppure visualizzare il trigger e tu dovrai appunto assegnargli un punteggio da 0 a 5 dove 0 significa che quel trigger non ti ha provocato alcunché e 5 significa che ti ha provocato rilassamento e tingles mi raccomando se il suono ti rilassa solamente ma non ti provoca tingles non assegnare il punteggio massimo assegna magari un 3 oppure un 4 mentre se il suono ti piace ma non ti rilassa né ti provoca tingles potresti assegnare magari un 2 o un 3 se ti piace molto ma appunto non ti provoca né rilassamento né brevedini insomma appunta questi numeri e alla fine ti chiederò di sommarli e ti darò la risposta al test prima di iniziare ti chiedo se l'idea ti piace di lasciarmi un mi piace di supporto ma soprattutto se non sei ancora iscritto o iscritto a questo canale fallo cliccando il pulsante qui sotto e soprattutto cliccando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti fatto bene allora adesso iniziamo primo trigger mi raccomando segna il punteggio da 0 a 5 come nelle istruzioni per non perdere per non perdere il punteggio da 0 a 5 per non perdere il punteggio da 0 il punteggio da 0 il punteggio da 0 il punteggio da 0 come è andata? ti ricordo che puoi anche segnare 0 se il trigger non ti è piaciuto affatto passiamo al secondo trigger e anche qui ti chiedo una valutazione personale che 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 mi 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 Grazie a tutti. Hai segnato? Bene, passiamo al terzo trigger e l'oggetto che utilizzerò sarà la tua 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 Sì Anche Jesse vuole partecipare al test Che carino Bene, passiamo al prossimo trigger Che carino Che carino Che carino Ricorda di scrivere anche per questo il tuo puntetto Eccoci arrivati al prossimo trigger Si tratta dei cubetti di legno Che carino Che carino Proseguiamo con il test Ed è il momento Dei dischetti di cotone Che carino Che carino Fatto? Passiamo al prossimo? Ah, finalmente Che carino Passiamo al prossimo trigger Passiamo al penultimo trigger Che carino Che carino Questo è un'altra Questo è un'altra Che carino E' un'altra E' un'altra Che carino Non c'è un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra quale tra questi trigger è stato il tuo preferito e non ci resta che salutarci ti auguro la buona notte e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah, e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte oi e se vuoi continuare a fare un po' di questo video qui c'è un po' di questo video